c'è che ti stai dondorando tutto da che lunga questa bavetta ci vuole una bavetta più corta che hai non vuoi mangiare più? andiamo a iniziare il video dai pensa a fare le fuse invece di mangiare si deve dondolare non si vede che c'è la bavetta come si sta dondolando lei ti devono riprendere Erika e Isa per fare vedere la pagliaccia che stai facendo questo culetto sotto e sopra che fai? si vede? no tu lo vedi da là di laterale ma dalla registrazione non si vede che sta facendo la pagliaccia aspetta giriamo la bavetta così si vede come si dondoli ecco qua ecco qua questo pancino bello più in vista tieni per vedere che stai giocando che buona questa bavetta se ti hanno mandato degli omogenizzati la prima volta che ti regalano gli omogenizzati ti hanno mandato un regalo proprio per te anzi no c'è stata pure Paola che ha mandato le bavette è stata bravissima che mi servevamo e nessuno le aveva mai mandate questo fazzoletto o tenevo a te o tenevo il fazzoletto ecco qua la zampina non si vede ma sei troppo vicina ecco qua così si vede la zampina pure sei lunga lunga questa zampina dritta sembra un mantello che hai non una bavetta ora il mantello giallo guarda come dà guarda quando gli piace la pappa fa così guarda quando è buona la pappa possiamo fare così beh hai aspettato pure parecchio da stamattina per la mia alle tre e mezza ora per la mia fino alle tre e mezza aspettando questa stranza che non veniva a darmi da mangiare però devi digerire velocissimo perché devo andare a fare le colonne sai devo fare prima c'è gli ax e Cecilia poi le colonne